Ciao ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. Oggi un altro video con la lavagnetta. Vi ho scritto alcune figure strane, non batteristiche, alla lavagnetta e oggi voglio dire del perché noi batteristi non sappiamo leggere la musica. Come vedete qui sulla lavagnetta ci sono scritture che noi batteristi, diciamo, di solito non siamo abituati a vedere, anche se ci sono degli importanti spunti di interpretazione riguardo a questo modo di scrivere. Un modo di scrittura che è proprio, diciamo, di tutti i musicisti armonici come chitarristi, violinisti, pianisti, tutto il resto del mondo musicale che non siano percussionisti o batteristi. Il concetto che vi vorrei introdurre oggi è che noi siamo degli handicappati musicali, ma mi spiego meglio. Voi naturalmente non lo dite in giro in questo modo, è una cosa scherzosa che dico io su noi batteristi, perché noi abbiamo una grossa limitazione, diciamo, per quanto riguarda l'esecuzione delle note musicali, che noi il massimo che possiamo fare è questo. Cioè, il massimo che possiamo fare noi è un attacco, è una frazione di secondo di suono. Noi non possiamo aggiungere sustain alle nostre note. Qualsiasi parte della batteria ha un po' di sustain, ma noi di certo non lo possiamo controllare, quindi noi non abbiamo il controllo sul sustain, cosa che tutti quegli altri musicisti hanno. Ogni chitarrista può fare, per esempio, e stopparla quando vuole. Noi non lo possiamo fare. Per questo, in realtà, quello che facciamo noi è un'interpretazione delle note musicali che non è proprio quella esatta, esatta. Noi, diciamo, nel nostro piccolo possiamo fare solo una cosa, e cioè colpire e fare un attacco del suono. Quindi interpreteremo tutte le letture ritmiche che vediamo secondo questo nostro handicap, se vogliamo. Allora, qui ci sono un po' di scritture che per noi sono un po' strane e che magari non siamo abituati a vedere. Per esempio, legature di valore, punti messi su semi-minime, come in questo caso, oppure note che non hanno come riferimento un battere, cioè dove non si vede un battere chiaro. Perché per noi batteristi quello che è importante, quello che vediamo su tutti i nostri manuali, su tutti i nostri libri, è questo. Vi faccio un piccolo esempio. Per esempio, una cosa del genere. Ora, le mie qualità grafiche naturalmente lasciano a desiderare, ma andiamo subito oltre. Quello che noi siamo abituati a vedere come batteristi è ogni singolo movimento, ogni singolo quarto, e abbiamo sempre sotto controllo il battere. Sappiamo che questo è il battere, questo è il battere, questo è il battere, e questo è il battere. Noi vogliamo vedere ogni quarto, e per questo non sappiamo leggere la maggior parte degli spartiti comuni che gli altri musicisti invece leggono abitualmente. Quindi per non essere in imbarazzo quando ci vengono date delle partiture, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo anche un po' abituarci a vedere cose del genere. Come si legge una cosa così? Questo è un ottavo, questo si legge. One and, two and, three and, four and. Noi però non siamo abituati a vedere questa nota che parte sul levare. Noi siamo abituati a vedere questa nota esclusivamente sul battere. E questo diciamo che ci implica appunto questo problema di cui vi ho appena parlato. Lo stesso problema, se vogliamo, lo abbiamo anche quando parliamo di legature di valore. Anche in questo caso abbiamo un valore che noi non troveremmo di solito, che praticamente sono tre ottavi. Quindi come si legge questa? Sarebbe one and, two and, three and, four and. Ultimo esempio che vi ho fatto qua sotto è il punto. Il punto adesso l'ho messo su questa semi minima, quindi è piuttosto largo. Però anche in questo caso di una nota che supera diciamo il valore del quarto, per noi è un po' strano. E quindi diciamo che perdiamo di vista il battere ed è più difficile leggerla. Però ci sono degli importanti spunti di interpretazione. Quindi come si leggerebbe questa? Sarebbe... Ah, vi do una bellissima scorciatoia per leggere le note con il punto. Voi vedete questi tre elementi, cioè la testa della nota, la stanghetta e il punto, come tre elementi separati. E già avete il valore di quella nota. E visivamente anche in questo modo potete riuscire a diciamo suonarla subito bene a prima vista. Perché questi sono tre elementi, questa è una nota che vale un quarto, più il punto che vale un ottavo, vale tre ottavi tutto insieme. Ma se noi guardiamo i tre elementi in questo modo, che sia scritta in questo modo qua o che sia scritta in questo modo qua, che quindi vale la metà. Se noi guardiamo questi tre elementi abbiamo una scorciatoia per poterla leggere subito accuratamente a prima vista. Breve nota a video dal Bernardo del futuro, se non si fosse capito bene, è una scorciatoia perché il valore di una nota puntata è sempre tre. Se è una semi minima, ovvero un quarto con il punto, varrà tre ottavi. Se è un ottavo con il punto, varrà tre sedicesimi. Se quindi voi guardate i tre elementi, la nota, il gambo e il punto distintamente, potete subito attribuire il valore di tre, sedicesimi o ottavi a quella nota. Torniamo dentro al video. Pollicione in alto per questa scorciatoia. Grazie. Quindi, dulcis in fondo, quello che ci succede a noi batteristi è che ci impariamo letteralmente a memoria quelle sedici figure che possiamo trovare in un quarto. E sono quelle sedici figure in cui è chiarissimo dove si ha il battere, per esempio... Roba del genere. E quindi noi ci impariamo a memoria tutte queste figurazioni e poi le ripetiamo a macchinetta ogni volta che durante la nostra lettura ritmica il nostro occhio si sofferma su quella determinata figura. E questa è una cosa che va benissimo perché da qualche parte bisogna pure iniziare. Ed è anche vero che noi, come esecuzione, questo tipo di scrittura è quello che facciamo di più. Cioè, nei libri noi troviamo questo come dicitura. Quindi è giusto che noi la impariamo. Questo è perché, primo, ci possono essere degli importanti spunti di interpretazione, come vi dicevo. Per esempio, leggi le note lunghe con la cassa e le note corte con il rullante. O viceversa, se si vogliono trovare, per esempio, anche di ritmi un po' diversi. Cose che alcuni di voi, magari, nell'ambito jazz avranno già fatto. Cose che sono super appurate da chi fa jazz. Però, anche per noi, comuni mortali, per non sentirci in imbarazzo quando ci viene data una partitura di un pianista, per esempio, e ci dice guarda, gli accenti sono questi. E abbiamo legature di valore, abbiamo punti. Non ci troveremo in imbarazzo e quindi saremo anche noi in grado di estrapolare quello che ci interessa a noi e quindi trovare i nostri colpi. Quindi, anche per questa volta è tutto. Spero che questo video ti abbia fatto riflettere su qualcosa. Fammi sapere nei commenti se ti è mai capitata una situazione del genere, dove praticamente non riuscivi a leggere uno spartito normale. Oppure, raccontami quale sia la tua esperienza al riguardo. Sarò contento di leggere il tuo commento qua sotto. Ricordati di iscriverti al canale e attiva la campanellina. Quindi, anche per questa volta è tutto. Io mi chiamo Bernardo Grillo e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!